Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi come state vedendo questo mini video breve 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 per annunciarvi una cosa Ragazzi, voglio sapere da voi che video fare Perché ultimamente per dare ret al sito, tra virgolette dare ret, come vedete sto facendo una notizia ogni giorno Ragazzi, io non ho più tempo per fare video, vorrei avere delle idee perché non riesco a svilupparle Siccome tutte le mie idee le sviluppo per il sito, ragazzi, vorrei da parte vostra un aiutino per sviluppare delle idee per i video Voglio sapere le serie che volete, le serie tipo MotoGP, Warthrow del Vampiro, lì se volete che lo porto avanti Minecraft, il nostro server, tutto quello che volete Ditemelo sotto nei commenti, voglio tornare a fare video, questo sì, però serve il vostro aiuto Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un like, commentare il video, condividerlo, iscrivetevi al canale È un video breve, però spero partecipiate Detto questo, ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi